ciao siamo riusciti a partire abbiamo avuto qualche intoppo all'ultimo minuto come sempre però ce l'abbiamo fatta ora siamo in navigazione la sedi vi saluta eccola lì che sta guardando la strada e questa sera abbiamo trovato un posto fichissimo dove dormire vicino a viterbo sono delle rovine di terme romane dove si può tranquillamente sguazzare in queste pozzanghere naturali termali quindi bagnettino e poi dormiremo in questo parco piscina e carletti ciao bravissima buio totale pronti per andare nelle piscine termali e romane le piscine carletti sono a circa due chilometri dal centro di viterbo sono immerse nel verde di un grande giardino e per le loro proprietà delle acque sono molto amate dalla gente del posto e dai visitatori sono terme libere l'ingresso è gratuito e non ci sono limitazioni di orario se volete vivere un'esperienza davvero unica concedetevi un bagno di notte ci sono l'abituare è freddissimo no no dai ci sta bene puoi venire anche tu passando per napoli ci è venuta voglia della pizza e abbiamo scelto di parcheggiare per motivi di sicurezza nell'area camper a portici bellavista con la transvesuviana in pochi minuti da questo parcheggio si può arrivare al centro di napoli o anche andare a visitare siti archeologici come pompei o ercolano i cani anche di grossa taglia possono viaggiare in treno senza particolari problemi non è non è non è non è non è non è Adesso mi dicevi che mi sarà buttato via e mi comincerà a muore quando ti voglio. Per il giorno di viaggio, ieri siamo stati a Napoli, pranzo pizza fritta stra buona, cena pizza classica stra buona, quindi due pizza in un giorno. E' gaffè, e' gaffè, pizza e' gaffè praticamente e non abbiamo filmato perché andrà a tenere l'assente in mezzo a tutto quel disastro di gente, scooter, macchine che passavano su stradine impensabili e stare attenti a non essere calpestati dalla gente è stata un'impresa veramente ardua, bordello allucinante, mai visto. Siamo tornati in campeggio con veramente i mani in testa, una cosa allucinante. Unica volta in cui abbiamo parcheggiato all'interno di un campeggio perché non ci fidavamo molto dei ladroni. I ladroni. Già, quindi ne abbiamo scelto uno super protetto, custodito per essere sicuri al mille per mille. E siamo partiti da soli perché i nostri amici oggi vogliono andare a Pompei ma noi non ci avevamo molta voglia. Più che altro anche perché non si può entrare con i cani di grande taglia e non volevamo lasciarla a standing camper per tante ore. Quindi abbiamo preferito continuare il viaggio. La destinazione è Villa San Giovanni dove ci si barca per la Sicilia. Vediamo se ci arriviamo. Grazie a tutti. 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 Buongiorno siamo questa mattina allo Stagnone. Stagnone avvicino a Mazzara è uno spot per fare kitesurf ma per principianti. No per principianti per acqua piatta e quindi per chi usa il bidirezionale. Perchè l'acqua è bassa se fai un salto ti uccidi per quello a principianti. E' vero? E' vero? Assolutamente farò un salto di 10 metri con l'acqua a 20 cm. Vabbè comunque siamo qui non abbiamo ancora mangiato un arancino. Ma sei arrivato ieri sera? Ma sei arrivato ieri sera? Sì perché ieri sera mamma che casino Messina che casino siamo proprio scappati non fa per noi la città. Siamo proprio dei polentoni. A lui ci piace abitare in mezzo alle galline? Campagna, forever and ever, campagna, natura, mare, niente casino. D'esolazione. Sì sì sì. Meno gente c'è meglio stiamo. Deserto. Meno gente c'è meglio stiamo. Ciao, ciao! E' ancora iniziale a far la cola Mazzarra del Vallo dove siamo Stagnolo, flat, flat Proprio ultra flat, vento forte, 8 metri Norchio stai a casa Mazzarra del Vallo dove siamo Mazzarra del Vallo dove siamo Mazzarra del Vallo dove siamo E dopo una sessione di kitesurf ti fermi e guardi questo Un tramonto spettacolare Un tramonto spettacolare